Gidiamo un po' Camilla, è tutto a posto Adesso io Guarda Camilla, il mio cuore è qui Ciao Peppa, ciao Camilla State giocando al dottore Io invece ho le bolle di sapone Giocate con me Bolle, bolle Camilla vuole le bolle di sapone Tieni Fate le sapone anche a me Peppa, guarda Ho anche un altro tipo di bolle Guarda Che bello Voglio giocarci anch'io Tieni Peppa Che bello Quante bolle di sapone Che meraviglia Sponco Come hai fatto a cadere? È tutta colpa delle vostre bolle di sapone Come si può essere così incosciente Per far volare così tante bolle di sapone tutte insieme? E io ci sono andato a sbattere dentro Ma vi rendete conto? Sparcol però Non esageriamo Non mi sembra così grave Stavamo giocando Ma come non è grave? Io mi sono fatto male alla luce Guarda, non posso più voare Oh, ma che bella coincidenza Stavamo per l'appunto giocando al dottore La bua La bua E come volete rimediare alla mia bua? Per prima cosa bisogna fare una radiografia Prego, Sparcol, accomodati Dottoressa Camilla Accenda la macchina A go, a go Colleghi A consiglio Questa è un'ala Sì, sono d'accordo A go, a go E che cosa facciamo? Dobbiamo mettere una medicazione A go, a go Mi sembra una buona idea Ma insomma Ci state discutendo Perché mi lasciate così tanto tempo all'idea? Calma, calma Tutto a posto Adesso la dottoressa Peppa ti porta un cerotto Sì, io Aspettate I cerotti I cerotti Dove sono i cerotti? Mmm Oh Ecco un cerotto Uh E questi Cosa sono? Sono le bolle di sapone con le quali mi avete fatto male Scusaci Sparcol Noi stavamo giocando Non l'abbiamo fatto apposta Ecco il cerotto Grazie Peppa Vieni qui Ti medico l'ala Opla Grazie Mi sento già meglio Ma sono comunque arrabbiata con voi Ma scusa Non l'abbiamo fatto apposta Dai Andiamo a fare le regno insieme Sì? Ragazzi Bevete un po' di latte E' buonissimo E fa bene Mmmmm Voglio 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 Questo cioccolatino Miam 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 Buono Sparcol Favorisci Che cosa vuoi? Io vorrei una cendella per favore Miam 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 Allora Sparcol Sei ancora arrabbiata con noi? No Abbiamo fatto pace Però la prossima volta fate attenzione Meno male allora E anche tu mi raccomando Quando soffi le bolle di sapone Stai attento Potresti beccare qualche pony volante Aioioi Ciao 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 Ecco Camilla Insieme Ecco fatto Ciao, io sono Sidney e guarda oggi che cos'ho, è un portanfan per Camilla Guarda che bel fiocchetto e le stelline Che bello, ma andiamo a fare una passeggiata? No Peppa, oggi non andiamo a fare una passeggiata, oggi andiamo dal dottore a fare il vaccino Ma che cos'è il vaccino? Il vaccino è una puntura che si fa per evitare di ammalarsi Camilla aspetta, dove vai? Camilla Vieni qui Oh no 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 Camilla Si è spaventata Camilla No Camilla Non devi avere paura Non devi avere paura perché non sentirai niente E poi la dottoressa ti darà una caramella Mettiamo la manina La testolina E opla Ecco qua Peppa Per favore portami il seggiolino Com'è presa Eccolo qui Prepariamo Camilla per il viaggio fino al dottore Oh guarda si è perfino un po' addormentata Oh è vero si è addormentata Andiamo Sì eccomi Mettiamo come sempre la cintura di sicurezza Allacciamoci la cintura Anche io Mi allaccio la cintura di sicurezza Ciao cintura Buongiorno dottor Barbie Ho portato Camilla a fare la vaccinazione Buongiorno Un minutino che controllo sul mio computer quale vaccino ci vuole Allora questo l'abbiamo fatto Questo si Questa non è la prima vaccinazione di Camilla Per questo la dottoressa sta controllando sul computer La prima vaccinazione Camilla l'ha fatta quando era piccola piccola Uppala Allora dottoressa siamo pronte? Un momentino adesso preparo la puntura Questo è sterile Povera la mia Camilla Non devi avere paura ti ricordi? Dopo ti danno anche la caramella Ecco qui Alziamo un po' la manica su Va bene Prima di tutto bisogna disinfettare Camilla non ti preoccupare sono con te non vado via Oh da un po' il braccino Oh che impressione non posso guardare Ecco fatto tutto finito Brava Camilla Hai visto? Non hai sentito proprio niente vero? Eh? Già fatto Ma siete fatto prestissimo Oh Camilla Congratulazioni Dove sono le caramelle? Ecco qui le caramelle Forse avere una caramella anche senza aver fatto la puntura? Ma sì certo Mi sono talmente stressata Una caramella mi aiuterà a calmarmi Quasi quasi ne provo una anch'io E dimmi Anche a te il dottore ti dà le caramelle? Mi raccomando Iscriviti al canale Per non perderti le prossime storie di Camilla E di Peppa Ciao